ciao a tutti amici cinefonieci.com torniamo a parlare di cuffie gaming come vi ricordate abbiamo attestato le occhi ghs1 come prime cuffie entri l'euro da 25 euro abbiamo poi proseguito con le sonic 95x con nostro giuseppe circa 30 euro ed ora raddoppiamo il budget e passiamo a 50 60 euro con queste hanswan hv 399 m headset wireless quindi senza fili compatibile con molteplici piattaforme per esempio il pc le due playstation 34 xbox one 360 e anche la vostra televisione quindi molto molto palpabili per molti utilizzi e devo dire molto molto interessanti quindi che dite andiamo a testarle sul campo la confezione solida davvero ben realizzata oltre a presentare un design accattivante e ben proporzionato di sfondo nero opaco ritroviamo nella parte frontale le cuffie stellizzate ai lati le foto di alcune parti mentre nella parte posteriore l'intera e resistiva scheda tecnica con immagini annessi che la spiegano in modo schematico anche l'interno è ben progettato e troviamo una dotazione che può stupire presenti le cuffie il microfono la base trasmettitore un ottimo libretto di istruzioni e di tutto è completato con un set di cavetteria adatto ad ogni base supportata ovvero due cavi usb micro usb un cavo ottico e due cavi jack jack per one e 360 il design ha uno stile squadrato accoppiato a sapienti curvature che donano una certa ricercatezza materiali ad assemblaggio sono eccellenti e collegano queste cuffie ad un altro livello rispetto alle due paia già testate i colori utilizzati sono il nero opaco di base con particolari rossi e delle cromature aggiunte a livello di padiglione tutti i comandi sono al posto giusto ed abbiamo la gestione dei volumi dietro l'orecchio destro mentre nella parte anteriore il tasto accensione spegnimento ed il silenziatore oltre al gancio per il microfono sotto sempre alla parte destra il jack da 3 e mezzo e la micro usb per ricaricare la batteria sin da subito vi danno una sensazione di leggerezza ed altissima comodità oltre alla solidità generale che è veramente molto molto buona grazie alla basetta non abbiamo i fili che ci intralciano ed anche il microfono montabile smontabile ci agevola nell'utilizzo infatti se ci serve lo usiamo e lo otteniamo molto bene grazie al designer sezioni con cui lo possiamo appiegare agevolmente mentre se non ci serve lo teniamo semplicemente nel cassetto senza problemi e poi è veramente ben realizzato e funziona veramente benissimo la batteria è una 1100 mAh che ci garantisce un uso continuativo di 6 ore quindi ha voglia di giocare e ce ne mette 5 per la carica completa ha provati anche il boccia testa molto morbido e comodo con i suoi tre cuscinetti ed anche le boccature dei padiglioni anch'essa di qualità e morbidosa passiamo all'aspetto più importante per le cuffie di questo genere e cioè il suono come sarà beh strepitoso o quasi infatti il volume è alto mi raccomando regolatelo bene con un suono pulito e dei bassi eccezionali anch'essi ben tarati se poi giocate a giochi con esplosioni spari via dicendo è una vera e propria goduria ma che dite sentiamo come vanno ovviamente calcolate che sia più pulito e più pieno di effetti sonori cosa che via video è difficile farvi apprezzare sul serio veicolo alleato furioso il nemico cia del mirino bersaglio smarrito siamo bloccati munizioni non abbiamo penetrato la corazza cingolo riparato pronto a far fuoco ne abbiamo trabassato la corazza ci hanno visto troviamo un altro bersaglio punizioni pronto a far fuoco tutto muoio un cingolo è andato non ci muoviamo colpo critico ed eccoci le conclusioni queste hanswan hv 399m wireless sono le cuffie da gaming con la c maiuscola ma maiuscola maiuscola è vero non costano poco e questo a volte ce le fa non valutare però vi consiglio vivamente di risparmiare un po' lasciare stare le cuffie da 20-25 euro o quelle più in giù ancora risparmiare mettere via i soldi e acquistarvi un paio di cuffie di circa questa cifra quindi 50-60 euro sono molto molto valide non per questo sono esempi da piccoli difettucci ma sono diciamo di peli nell'uovo rispetto a tante altre i difetti allora la pratica con cui sono costruite è veramente molto molto buona costruzione grecia niente da dire solo che come vedete anche voi qui è leggermente gommatina quindi l'unico difetto principale è che si macchia velocemente con poco quindi dovete tenere pulite molto spesso altra cosa di carattere di linea interna di diciamo di onde di trasmissione se voi mettete la basetta di trasmissione vicino alla vostra console o addirittura sopra può capitarvi che la vostra console non riceva il segnale wifi di casa quindi prima vi consiglio di attaccare il wifi collegare la console, fare il profilo e tutto quanto e poi utilizzare le cuffie per non incappare in nessun tipo di errore bene detto questo noi ci vediamo alla prossima noi abbiamo acquistato e vi ricordo su Amazon circa 50 euro in offerta lampo qui sotto vi mettiamo il link del negozio purtroppo questo modello qui non è disponibile attualmente ma trovate tantissimi altri modelli e devo dire molto validi almeno dalle caratteristiche e ci vediamo alla prossima ciao ciao